Luigi Abate, sindaco di Taranto, con il movimento Taranto Senza Ilva per dare voce a chi non ha voce, per ascoltare innanzitutto le esigenze dei disabili e per dare risposta a questi amici, a questa gente rispetto ai quali purtroppo oltre gli sfreggi di madre natura si aggiungono gli sfreggi della incapacità e della inerzia amministrativa. Ci troviamo a Lama, stiamo monitorando questa periferia e siamo appunto presso la circonvalazione dei fiori, barriere architettoniche. Io vorrei capire come fa, signori cari, un disabile a passare, vedete qui c'è questo, chiamiamolo scivolo, e poi praticamente lo spazio è angusto, è ristretto appunto per far sì che una carrozzella possa passare. Questo per darvi un esempio, ma basta che ci spostiamo di qualche metro e vedete, anche qui proprio salendo, altro scivolo, altro appunto possibilità di passaggio, ed ecco vedete questi pali con appunto le indicazioni, con la segnaletica, che rappresentano proprio un ostacolo per il disabile in carrozzella, con un ausilio e quant'altro. E il clou poi avviene ancora, guardate lì quel palo, quel palo proprio rappresenta la fine della possibilità di deambulare per un disabile, perché vedete rappresenta così un blocco. Qui si ferma purtroppo il diritto alla mobilità, il diritto alla vita, il diritto all'uguaglianza di un disabile. Qui è una vergogna, voglio vedere il disabile come deve passare. Caro ex sindaco Melucci, è vero, questi lavori furono fatti decenni fa, un decennio, forse due decenni fa, quello che sia, ma tu avevi il dovere di rimuovere questi ostacoli che sono appunto le barriere architettoniche che impediscono una vita normale a un disabile. Noi vogliamo dare voce, i disabili non devono essere soltanto considerati in campagna elettorale o giusto per far vedere che un'amministrazione è vicina ad essi a parole. Si è vicini ai disabili con i fatti, andando a rimuovere le barriere architettoniche, andando a rimuovere gli ostacoli materiali, questo è il palo della vergogna, caro ex sindaco Melucci, il palo della vergogna, una carrozzella dove come fa a transitare, signori cari? Ecco, ho fatto tante denunce in questi anni, mi sono messo contro tutti, contro le varie amministrazioni, dall'epoca di Bello, passando per Stefano e arrivando a Melucci, mi sono stancato. Ora voglio passare dall'altra parte, voglio dare da amministratore, da primo cittadino, voglio dare al cittadino, al disabile, a chi non ha voce, quella voce che voi in tanti anni avete negato. Ho avuto grande coraggio e nessuno me lo può negare, nessuno mi può smentire. L'ho fatto da giornalista, lo farò da sindaco, da primo cittadino. Per questo vi chiedo il voto. Luigi Abbate sindaco, con Taranto, senza Ilva. Grazie a tutti.